Arrestati 30 narcotraficanti e sequestrati 20 milioni di euro di droga, inferto un duro colpo alla criminalità dai finanzieri di Trento. La mega operazione è durata due anni, coinvolti un centinaio di militari. Affitti nero a studenti, evasione da un milione di euro, i falsi poveri per 100.000 euro, nei guai un finto studente fuori sede, aveva rubato l'identità a un veronese e aveva beneficiato di 6.000 euro. A Trento, soltanto nel 2017, sono andati in gioco ben 214 milioni di euro. CNCA e AMA, cifra superiore all'intero bilancio del comune di Trento, che si ferma a 178 milioni di euro. Furgone sotto un camion, grave incidente in A22 tra San Michele e Egnahora, in direzione Boltano. A Brentonico, invece, violento frontale tra un'auto e una moto, tra San Giacomo e la Polsa. Gianni Moscon difende la maglia tricolore a crono e beffa Filippo Ganna per due secondi. Dopo un duello di stanza appassionante, il Trentino della Team Sky si conferma campione italiano della specialità. Filippo Ganna per due secondi.